L'agricoltura in Sicilia è un settore che potrebbe essere traino dell'economia dell'isola, vista la varietà di prodotti dalle particolari proprietà organolettiche dovute alla presenza del vulcano, ma che deve fare conti con diverse criticità. Nonostante ciò non mancano le realtà virtuose, progetti sostenibili e proposte per intervenire su circa 70.000 ettari di impianti agrumicoli, in parte affetti da fitopatologie, che richiedono una soluzione urgente. Le nuove sfide che deve affrontare il settore agricolo, in particolare il comparto agrumicolo dell'isola, sono state al centro di una visita nel sud-ovest etneo dall'assessore all'agricoltura della regione siciliana Luca San Martino, a cui in questa circostanza sono state illustrate gli obiettivi e le attività dell'innovativo progetto EBIOSCART, volto alla valorizzazione degli scarti da FICO d'India. San Martino, infatti, è stato accolto negli stabilimenti produttivi dell'azienda partner del progetto, o pila deliziosa Sita Biancavilla, che è specializzata nella commercializzazione di agrumi e prodotti agricoli, tra cui anche il FICO d'India, ospita al suo interno l'impianto pilota del progetto. EBIOSCART ha come soggetto capofile il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e rientra nella sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Proprio dal confronto con gli imprenditori del settore, è emersa dall'innovation broker di EBIOSCART, Dancy, la proposta per una sorta di piano Marshall per l'agrumicoltura, consistente nell'ammodernamento della base produttiva con coltivazioni resistenti alle fitopatologie.